Ragazzi, eccoci qui per iniziare una fase della nostra storia, italiana in particolar modo, ma anche europea e in un certo senso mondiale, la vedremo tra poco, che gli storici chiamano risorgimento. È la reazione al tentativo del congresso di Vienna di far tornare tutto come era prima della rivoluzione francese. Come abbiamo ben detto nella precedente lezione, anche nella lezione in diretta, le lancette della storia non tornano indietro, quindi non è stato proprio possibile materialmente far ritornare indietro soprattutto gli ideali che erano stati risvegliati dalla rivoluzione francese e dall'avventura napoleonica. Tutto questo slancio ideale, cioè libertà, fratellanza, uguaglianza, rimane ben presente nelle classi più colte d'Europa, quelle più ricche della borghesia che avevano avuto la possibilità non solo di studiare e di far studiare i figli, ma anche di condividere una parte del potere negli anni della rivoluzione francese e negli anni del napoleonismo. Sono gli intellettuali che fanno iniziare le prime rivolte, sono coloro che avevano studiato, coloro che avevano gli alti gradi dell'esercito o anche del potere economico in Europa. Gli intellettuali si riuniscono in società segrete. La segretezza era necessaria perché ogni ribellione veniva tenuta sotto controllo, le polizie di tutta Europa collaboravano assieme con la Santa Alleanza, come sapete, per stroncare qualsiasi tipo di ribellione. Quindi era necessario che ci fosse una organizzazione segreta che potesse cercare di tenere viva la fiamma della rivolta. Questa organizzazione segreta fu la Carboneria. È esistita una Carboneria quasi in ogni paese d'Europa. La Carboneria originaria era italiana, la prima e più grande era italiana. E si chiamava così perché gli adepti, cioè coloro che si affiliavano alla Carboneria, assumivano un linguaggio tipico dei carbonari in modo tale da evitare di farsi scoprire. Quindi parlavano sempre per metafore. Queste metafore contenevano sempre dei riferimenti al carbone e al lavoro del carbonaio. C'erano ovviamente dei riti d'ingresso perché bisognava giurare fedeltà alla Carboneria, giurare la segretezza, assicurare la segretezza che si veniva violata, era terribile, cioè si veniva uccisi con un obbligo assoluto della fedeltà. Un modo di procedere che rallentò la diffusione della Carboneria, ma che fu anche la sua caratteristica che impedì la sua proliferazione. Gruppi di Carbonari ci furono in tutta Europa. In Spagna presero il nome di Comuneros, in Francia gli Adelphi, i Filadelfi nell'Italia del Nord, l'Eteria in Grecia. Tutti comunque erano legati da un patto sovranazionale che aveva come punto principale quello di volere una Costituzione scritta nei singoli stati d'Europa. Ecco, una cosa che la Francia e l'esperienza della Revoluzione francese aveva portato era questa, la necessità che ogni paese si dotasse di una Costituzione. Questo perché? Perché la Costituzione indica i principi inderogabili oltre i quali la legge non può andare. Quindi ogni potere che ha una Costituzione non è mai un potere assoluto. Come aveva già dimostrato adesso l'Inghilterra sin dalla Magna Carta del 1214, come sapete, 1215, scusate, 14, la sconfitta di Arzincourt, che ha determinato appunto la Magna Carta. Gli obiettivi politici di tutte queste carbonerie in realtà erano molto vaghi e molto differenti da Stato a Stato e anche tra persone di diversa estrazione. I liberali, per esempio, volevano la monarchia costituzionale, i democratici volevano la Repubblica, quindi c'era una certa confusione sui fini, ma tutti sanno che il mezzo era il desiderio di una Costituzione scritta che ha agitato l'intellettuale di mezza Europa. Quando scoppia la prima grande rivolta del Risorgimento? Scoppia nel 1820, quindi ad appena cinque anni dal congresso di Vienna. Come vedete, insomma, l'impalcatura del congresso di Vienna non tarda a farsi sentire scricchiolante. E comincia in Spagna, uno dei baluardi dell'anzien regime, dove c'era Ferdinando VII, che era un re borbone, il borbone di Spagna, che governava in maniera assoluta. Ebbene, qui la rivolta venne dall'esercito. I soldati, riuniti nel porto di Cadice, che avrebbero dovuto salpare per le colonie spagnole, dove c'erano altre rivolte di cui parleremo tra un po', rifiutano di imbarcarsi, rifiutano quindi di andare a reprimere dei moti rivoluzionari per la libertà, e chiedono con una rivolta, una ribellione, la Costituzione a Ferdinando VII. La rivolta si estende in tutti i rami dell'esercito in tutta la Spagna, quindi il re Ferdinando VII è costretto a concedere la Costituzione. È un governo liberale. Pare la vittoria. Subito in Portogallo si propaga la notizia, e in quel momento bisogna pensare che il Portogallo era dominato da un protettorato inglese, il re Giovanni VI, e era scappato in Brasile dall'epoca di Napoleone. L'orgore era tornato, e gli inglesi governavano in nome del re. L'esercito si ribella al governatore inglese e chiede al re Giovanni VI di ritornare dal Brasile, dove tra l'altro c'erano anche lì rivoluzioni liberali, per concedere la Costituzione. E così accade. Il re Giovanni VI viene riportato in Portogallo e diventa re costituzionale. A questo punto un altro regno, dominato dai Borboni, si ribella. È il regno delle due Sicilie. Anche qui è l'esercito a essere il centro della rivolta, con il generale Guglielmo Pepe, che capeggia la rivolta e inizia a ribellarsi. I generali che vengono inviati per reprimere questa rivolta dei soldati si uniscono a loro volta ai rivoltosi. Quindi anche a Napoli, Ferdinando I è costretto a concedere la Costituzione. Vedete, nel 1820 ci sono dei moti rapidi, capigenti dall'esercito, e che vengono subito corrate a successo, anche perché l'esercito è un elemento delicato dello Stato. Nel 1821, invece, la rivolta si propaga in Piemonte, nel regno di Sardegna. Lì, in quel momento, regnava Carlo Felice, fratello di Vittorio Emanuele I, che aveva abdicato dopo il ritorno della restaurazione. Carlo Felice, però, in quel momento era a Modena. era in vista di Stato e governava al suo posto il nipote Carlo Alberto, che aveva delle tendenze liberali. Approfittando di questa cosa, i carbonari, capeggiati dal conte Santorre di Santa Rosa, convincono il reggente, Carlo Alberto, appunto, a concedere la Costituzione in attesa del rientro di Carlo Felice. e qui inizia la riscossa della restaurazione, perché Carlo Felice, che era un nobile tutto in un pezzo, invoca l'aiuto dell'Austria. L'Austria mette in moto la Santa Alleanza. Vi ricordate? L'alleanza dei tre imperatori, Prussia, Russia e Austria, per reprimere ogni tipo di moto. La Santa Alleanza interviene, riporta Carlo Felice a Torino, Carlo Felice punisce il nipote Carlo Alberto allontanandolo dalla corte, manda a morte tutti i rivoluzionari e tutti i capi della congiura e ristabilisce il dominio assoluto cancellando la Costituzione. Ugualmente succede in Spagna, in Portogallo e a Napoli. In Spagna è la Francia che si prende la briga di arrivare, di invadere la Spagna, di riportare i poteri a Ferdinando VII, a Napoli invece ci pensa sempre l'esercito francese chiamato da Roma dove era in appoggio al Papa a ristabilire il potere assoluto di Ferdinando I. Come vedete nel giro di un paio d'anni le rivolte che sembravano aver avuto grande successo scompaiono. E qual è la causa di questo fallimento bruciante? Innanzitutto non era stato convocato il popolo, cioè il popolo non è stato per nulla coinvolto. non capiva neppure le esigenze dei rivoluzionari che erano semplicemente degli intellettuali, delle persone di un rango molto elevato, gente che aveva studiato e che non riusciva a dialogare col popolo. Il popolo del resto non aveva nessuna idea di quali fossero gli ideali liberali di questi carbonari. Tra l'altro il popolo aveva a pensare piuttosto alla crisi economica e a portare il pane a casa visto le carestie che si stavano diffondendo in Europa. Quindi il primo coso importante è il popolo. Poi come vi ho detto la diversità di obiettivi fra i liberali democratici e i liberali moderati che volevano la monarchia costituzionale quindi non volevano buttare all'aria la monarchia e i re e i democratici repubblicani che invece volevano la repubblica. Quindi questi interessi non convergenti portarono a una disunione del movimento rivoluzionario e poi bisogna ricordare che i nobili e il clero si allearono in funzione reazionaria quindi contro queste rivolte e il clero come sapete aveva il cuore del popolo essendo ogni parroco in una parrocchia in ogni paese in ogni paese. L'unico moto sostanzialmente che andò bene fu quello della Grecia nel 1821. In Grecia ci sono moti rivoluzionari per liberarsi della dominazione musulmana l'impero ottomano aveva conquistato la Grecia nel 1453 quando cadde vi ricordate l'impero romano d'oriente o l'impero bizantino e la Grecia divenne però il catalizzatore delle simpatie di tutta Europa in tanti aiutarono i greci soprattutto gli idealisti come il poeta Byron anche gli esuli falliti per esempio Santora di Santa Rosa riuscì a fuggire da Torino e a evitare la forca e andò a combattere per la libertà della Grecia e tra l'altro morì in battaglia la Grecia però conquistò la sua indipendenza anche per altri fattori politici molto più importanti e non certo solo per l'entusiasmo dei rivoluzionari innanzitutto l'Inghilterra e la Francia diedero un appoggio sostanziale agli rivoluzionari perché desideravano che sostituirà i turchi nel dominio del Mediterraneo e quindi diedero aiuto ai rivoluzionari la Russia ugualmente aveva necessità di arrivare al Mediterraneo e per far questo doveva diminuire la potenza turca quindi anche la Russia appoggiò militarmente ma soprattutto finanziariamente i rivoltosi e anche l'Austria aveva interesse di indebolire la Turchia per poter aumentare il suo potere lungo i Balcani quindi vedete la potenza e la volontà di potenza dei grandi stati europei permisero ai greci di liberarsi però quello che non capirono bene i regnanti europei è che se concedevano alla Grecia la possibilità di diventare regno diventare regno indipendente in nome di una nazionalità anche le nazionalità d'Europa i polacchi i tedeschi gli italiani i cecoslovacchi avrebbero potuto richiamare la propria nazionalità per essere liberati e questo fu un errore grave comunque il nuovo regno di Grecia divenne un protettorato in realtà europeo perché gli imposero un re che non era greco ma tedesco Ottone I e stavamo dicendo in quegli anni anche l'America Latina cioè tutta l'America del Sud inizia i suoi moti di rivoluzione dai tempi dei conquistadores nel 500 l'America Latina era una colonia europea sfruttata solo per le sue risorse la sua società era rigidamente divisa in creoli cioè i discendenti dei bianchi dei conquistadores che avevano tutti i poteri i meticci cioè coloro che avevano padre bianco e madre invece indigena che erano artigiani piccoli conversanti e i nativi cioè gli indios che erano schiavi o contadini poveri ecco vista anche la desiderio di liberarsi da questo gioco da questa società sclerotizzata chiusa diversi diversi condottieri simon bolivar san martin iniziarono a far rivoltare le popolazioni e qui naturalmente sono il popolo che è protagonista ecco perché poi per lo più queste rivoluzioni ebbero felice successo nel 1820 l'inghilterra inizia a capire che queste rivoluzioni possono portare un agevolamento economico perché la spagna si sarebbe indebolita e cominciano a finanziare i rivoluzionari ma a livello politico la cosa più importante fu nel 1823 quando divenne presidente degli Stati Uniti James Monroe James Monroe è un presidente molto energico che stabilì una dottrina cioè ebbe un pensiero preciso l'America agli americani cioè proclamava il fatto che gli europei non dovessero più impicciarsi dei fatti del continente americano avrebbe dovuto lasciare fare agli americani la loro vita nel loro continente diciamo che un pochettino come l'America first di Donald Trump oggi più o meno l'America agli americani grazie a questi appoggi politici economici finanziari e alla rivoluzione che coinvolse il popolo in breve tempo l'America latina riuscì a liberarsi dai colonizzatori spagnoli e portoghesi a creare i regni che sono gli stati che ci sono oggi cioè il Venezuela il Brasile il Paraguay l'Uruguay l'Argentina